Sono arrivati i bilanci, ma non sanno fare neanche uno più uno. Aspetti che controllo subito. Fa tre. Con poste casa ultraveloce, due connessioni fanno tre modi di navigare. Da casa in fibra e mobilità e se usi la chiavetta con il modem, porti il wifi in una seconda casa.